Ancora Canini, possesso palla del Cagliari appavadito dal pubblico, cerca dentro la palla a stori per Cossu, largo a destra Cossu, tra posizione di Biondini, le finte manda a vuoto Cassetti, poi cerca Biondini in andare di rigore, la Veronica di Biondini che va a crossare dentro il pallone, Giulio Sergio tocca su Acquafresca che torna a Cagliari e torna a segnare 3 a 1 per il Cagliari, Robert Acquafresca. E' bravo Cossu a iniziare, Biondini a fare la giravolta col cross di sinistro e poi in controtempo il colpo di testa di Acquafresca non consente a Giulio Sergio di poter prendere la palla con la forza necessaria col braccio sinistro per non farla entrare in porta, devo dire che il portiere era in controtempo qui e non era facile rinviare il tiro. Terzo gol, incassato dalla Roma, ha toccato il pallone Giulio Sergio, posizione di Acquafresca regolare, gran gol, Giulio Sergio tocca ma non può allontanare questo pallone, questo è un gol classico che sanno fare entrambi gli attaccanti del Cagliari, sia Acquafresca sia Alessandro Matri. Il terzo gol del Cagliari. Qui il cross viene da sinistra al centro, però da destra al centro, qui il portiere fa il passo verso destra e poi la palla è sul suo piede sinistro, non può appoggiare bene per staccare e impedire alla palla di andare in porta.